Il favoritore di minoranza alla votazione aperta 28b604 Polidori. Bene, ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 364, votanti 359, attenuti 5, maggioranza 180, fuori 132, contrari 227. La Camera respinge i pareri all'articolo 29. Onorevole Redatore. Il parere agli emendamenti dell'articolo 29 è il contrario. Insomma, invito, ritiro, parere contrario. Grazie. Onorevole Allasia. Parere favorevole. Grazie, Governo. Parere agli emendamenti dell'articolo 29.1 Vignali. Prego, Onorevole Vignali. Grazie, Presidente. Accetto l'invito a ritiro, però vorrei chiedere al Governo, veramente, soprattutto nel corso dell'esame al Senato, di valutare attentamente questa norma che è stata introdotta. Perché? Noi avevamo disciplinato molto recentemente le società semplici. Esiste per legge uno statuto standard che non è modificabile. Avevamo per legge imposto ai notai di farle gratis, quindi senza nessun costo, tenendo presente che sono le società che privilegiano soprattutto le start-up, i giovani che intraprendono una nuova attività. Ora, passando dalla scrittura pubblica alla scrittura privata, si creano dei problemi seri di due ordini. Il primo è che il Conservatore della Camera di Commercio... ... ... ... ...